Giudice di questo raccruppamento è Gianfranco Baukal che accogliamo nel ring con un applauso. Allora, siamo pronti. Alaskan Malamud. Siberian Aski. Samo Iedo. Basenji. Ciao ciao. Una razza italiana, il Cenneco dell'Etna. Altra razza italiana, il Volpino italiano. Spitz Nano. E Spitz. No, questo è il nano. Spitz piccolo e Spitz Nano. Ripasso la parola al collega Daniele Poltri. Grazie Francesco di avermi sostituito. Potevi tenere anche te. Che figli è, sai, è un bel canale. No, non è un bel canale. Ecco che il giudice ha fatto una prima selezione, Basenji, Cirneco dell'Etna, Siberia Naschi e Spitz, Nano. Chiede un giro di ring. E poi si riferma dalla parte opposta. Ecco che il giudice fa una valutazione singolarmente. E' la volta sempre di un cane primitivo, proprio qui della Sicilia. Ed è la volta del Basenji, il cane che non abbaia. Mi sposto, mi sposto. Qui siamo ripresi in diretta su Animal New. Al terzo posto il più piccolo, lo Spitz. Al secondo, il più grande, il Siberian. E al primo posto il Basenji. Tutti i migliori soggetti del gruppo sesto si possono presentare nel pre-ring. Vado a presentarvi il giudice di questo raggruppamento che viene dalla Svizzera. e il collega Laurent Fischar.